Grazie per questo bellissimo premio che arriva forse nel momento migliore Orca miseria Ma quanto tempo! Siete lì? A Basinger, ho mai sentito Mi mandate in ambulanza Che da vicino sembra molto più anziano Grazie Cos'è? Performance Ma è proprio che l'hai mista qui Mi diceva che avete la stessa età Sì, siamo uguali È una cagata passetta Bravi Bravo, bravi Grazie a tutti Grazie a tutti.